Ciao a tutti, siete sulla mia pagina Facebook e questo come al solito è solo un piccolo post-it per ricordarvi che domani sera, 11 agosto, saremo al Club 06, al porto turistico di Tropea con Quando Piove Diluvia, con me e sempre il taumaturgico maestro Fabio Tommasone e sono previste precipitazioni, naturalmente Quando Piove Diluvia e noi ci portiamo questa grande incombenza sulle spalle un po' come la nuvoletta di Fantozzi Pensiero del giorno Chi va piano arriva più tardi Chi arriva più tardi gode di più Ciao a tutti